150 kg di cocaina purissima per un valore di oltre 30 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria nell'ambito del contrasto ai traffici lecci trasnazionali all'interno dell'area portuale di Gioia Tauro. Le fiamme gialle sono riuscite a scovare la droga che era stata abilmente occultata in uno dei mille container carico di banane, proveniente dal continente sudamericano a bordo di una nave commerciale in servizio sulla rotta che passa da Panama per poi giungere nel porto di Gioia Tauro. La cocaina proveniente dal porto di Turbo in Colombia è risultata di qualità purissima, avrebbe potuto essere tagliata dai trafficanti di droga fino a quattro volte prima di essere immessa sul mercato sia italiano che internazionale. Un duro colpo per i trafficanti che utilizzano spesso il porto calabrese per trasportare la droga dal Sud America, cercando sempre nuove metodologie di occultamento.